Ciao, io sono il salutatore, ti volevo chiedere un saluto a tutti i tuoi fan, lo sito se uno non lo sa, ecco qua. Ciao a tutti, grazie mille per tutto, lo apprezzo tantissimo e abbiamo... Grande, io ti ringrazio e fanno benissimo, un saluto speciale a chi lo vuoi fare? Beh, a tutti, a tutti non c'è uno speciale, è a tutti e grazie per tutto che avete fatto, ragazzi, lo apprezzo, grazie ancora, ciao, facciamo gli auguri, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, ciao, grazie, ciao.